Musica Amici del Lupus in Game, un calorosissimo abbraccio e ben ritrovati su Football Manager 2016 Riprendiamo la nostra carriera con il Catania da dove c'eravamo lasciati C'eravamo lasciati con una vittoria casalinga contro l'Ischia e Isola Verde Affronteremo adesso un'altra sfida casalinga, sarà proprio contro la Lupa Castelli Romani Squadra che milita in questo momento in zona play-out, quindi assetatissima di punti Ma lo siamo anche noi in virtù del fatto che la classifica ci dice che le distanze dalla zona play-off sono solamente di un punto E quindi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamoci a gustare il pre-partita Nel frattempo vi do lettura della giornata di oggi Di cartello abbiamo Ischia, Fidelissandri, Benevento Matera, Foggia, Martina Franca, Juve Stabia Messina, Acragas, Monopoli, Catania Per l'appunto Lupa Castelli Romani, Lecce, Casertana, Catanzaro Melfi e Cosenza Paganese Scenderemo in campo con il nostro solito 4-4-2, Bastienoni tra i pali di Marco Però questa volta a Dermacu, che non l'ho visto bene in questo periodo, preferisco Pelagatti Quindi Pelagatti, Di Marco, Ferrario e Garufo Oppure ancora meglio ragazzi, a questo punto, visto che siamo in fase di sperimentazione Mettiamo Bergamelli che è molto più adatto a quel ruolo Quindi Di Marco, Bergamelli, Ferrario, Garufo, Scarsella a destra Musacci, Amodio e Pier Marteri, Remida Leto e Catano Calile lì davanti Ancora una volta confermato, diciamo, il modulo Ma anche la formazione, con la sola differenza Che rientra Musacci dall'infortunio Quindi sarà per noi sicuramente un giocatore guadagnato Viste le qualità, le doti tecniche che ha Speriamo che le dimostrerà in campo Vediamo come si schiera invece la lupa Castelli-Romani Lupa Castelli-Romani che si presenta molto offensiva Non sono intimoriti assolutamente dalla nostra formazione 4-2-3-1 di tutto rispetto Con quei tre lì davanti, non male Brunori, Sandri, Scardina e Morbidelli Con, diciamo, un occhio di riguardo anche verso Volpe Strasser e Scicchidano a centro campo Indietro abbiamo con l'Antonio Lucarini a cuore rosato A difendere i pali sarà Tassi Sproniamo i nostri, come al solito Mandiamo i carichi Dobbiamo vincere questa partita senza alcun problema Gente assorta nei propri pensieri Altri invece ascoltavano attentamente Positivo, vedremo come finirà Via! Quinto minuto di gioco Agiamo come al solito nostro sull'asse di destra Musacci Prova a scattare lungo la fascia Ma, prestato da tre avversari Si trova costretto ad appoggiare dietro Allora ancora per via centrale L'Eleto per Calil Calil che ha tirato una bordata centrale Ma con difficoltà Tassi le spinge Colpisce di testa qui Ancora Ferrari a recuperare il pallone Giunti al quindicesimo minuto Bergamelli Allarga per Piermarteri Possesso palla Abbastanza positivo da parte nostra Qui ancora una volta Un pallone lungo per L'Eleto che però viene anticipato da Quaro Scicchitano Prova ad imbastire un'azione adesso La lupa Castelli Romani con Strasser Si appoggia a Scardina Che allarga sulla fascia Dove anticipo tutto Gerufo Aveva anticipato nell'occasione Volpe Ancora Scardina Prova a tirare la palla Però non impensirisce per nulla Bastiano Catano Calil Prova ad allungarsi lungo la fascia destra Aspetta l'avanzamento dei compagni Ma prova qui un qualcosa che non si capisce Se è un cross o un tiro Ventisettesimo minuto Ancora Strasser Si affaccia la lupa Castelli Romani Lo fa con concentrazione In maniera anche pulita Colantoni Cross centralmente Qui anticipato Scardina Ancora Scicchitano Allarga a destra per Rosato Che cross Attenzione qui Che era un tiro cross Che ha impensirito Non poco Bastinoni Che si rifugge in calcio d'angolo La battuta del seguente Va proprio Volpe Strasser Ancora Colantoni Siamo tutti rintanati Nella nostra metà campo Non abbiamo quindi possibilità Di partire in contropiede Bastinoni infatti Lancia lungo E perde palla Ma la riconquistiamo Rosato che mette in calcio In fallo laterale Ancora qui Leto per Di Marco Lungo il lancio Per Pier Martelli Che cross centralmente Attenzione attenzione Kalil Miracolo 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 ragazzi Ancora Di Marco 29esimo minuto Poco fa C'è stato un miracolo Veramente di Tassi Che secondo me Niente se l'aspettava Probabilmente erroraccio Di Kalil A botta sicura La schiaia Contro il portiere Ma siamo ancora noi Musacci Certamente per Kalil Che ha possibilità di rifarsi Ci prova Scarsella Kalil per Musacci Ma la trappalla Troppo lunga Strasser In difficoltà La mette in fallo laterale Si sta per concludere Il primo tempo Siamo a 5 minuti Dal fisco del parziale Ancora 0 a 0 Scardina qui Perde il pallone Amodio Leto recupera Si allarga Dall'altra parte Eh Qui doveva darla Attenzione però Ancora Pier Martelli Servito ancora Leto Leto deve darla Velocissimamente Non può permettersi Queste perdite di tempo Però la recuperiamo Siamo fortunati Scarsella Cross centralmente E tira il gol Il gol di Leto Il gol di Sebastian Leto Il secondo gol in campionata 1 a 0 per il Catania Gran gol L'avevamo criticato Fino a 2 secondi 2 secondi fa Scusami Qui scarsella Questa volta Che si trasforma In Pier Martelli Qui Piattone di Leto Anticipa tutti Ho preso Tassi 1 a 0 per noi Si conclude il primo tempo 45 minuti Abbastanza vivaci 1 a 0 per noi A conclusione La rete è giunta Al 41esimo minuto Da parte di Sebastian Leto Diciamo che Al centrocampo Musacci non sta facendo Proprio una partita Eccezionale Comunque si È appena tornato Dall'infortunio Quindi c'è anche da capirlo Facciamo entrare Castiglia Anche perché Musacci è stato Anche ammunito Quindi potrebbe Creare questo Dei problemi Magari in fase Di stanchezza Ma qualche falletto In più Che l'arbitro potrebbe Segnalare con il cartellino Giallo Neanche Kalille Sta facendo un partitone Ma è compensato Comunque sia Dalla buona prestazione Al di là del gol Di Sebastian Leto Partiamo con il secondo tempo Via Garufo 48esimo minuto Può corsare Serve invece dietro Qui Attenzione Serie di rimbali Castiglia Tira la botta La palla Con una mano Presa da Tassi Con il guantone Destro Per Martelli Remmida Mette al centro Questo palla Attenzione Mamma mia Rimaniamo ancora In diretta Palla centrale Una rasoiata A tagliare Tutta la difesa Attenzione Quel tiro Ancora una volta Tassi In difficoltà Ma La prende Le sta provando Tutte La lupa Castelli Romani Due sostituzioni Nel periodo Non collegato Noi ancora Diciamo Vogliamo mantenere Le cose così Come stanno Ci sta adesso Provando Attenzione Adesso a Bolpe Ancora il risultato È in bilico Scardina Allarga sulla destra Per Morbidelli Ancora Ricamato Il nuovo entrato Rosato Centrale Bastianoni Qui In calcio d'angolo Non trattiene Ottantunesimo minuto Scusatemi Di Marco Proviamo A chiuderla Andremo a mettere Il capo Attenzione Leto Leto La palla Sprecata Malamente A tu per tu Con Tassi Miracolo di Tassi Che tiene ancora A galla La sua squadra Novantesimo minuto Un minuto e mezzo Alla fine Ancora noi Ad attaccare Però parte In contropiede Adesso Mancini A lupa Castelli Romani Sono tre contro uno La prendiamo Con Bergamelli Molto positiva La prova di oggi Premiata La scelta fatta Bastianoni Si porta la palla Praticamente Quasi al centro campo Qui ancora Khalil Non ha fatto Una prestazione Brillante oggi Lo possiamo anche Perdonare per questo Cardore Manca Meno di un minuto Attenzione qui A Scardina Che tira Palla Guadagna un fano laterale Per l'appunto Facciamo uscire Allora per prendere Tempo Proprio Cadano Khalil Facciamo entrare Calderini al suo posto Per l'occorrenza Anche Scarsella Ma non abbiamo Con chi sostituirlo Quindi Scarsella Dovrà stringere i denti Lucarini Siamo oltre Il tempo di recupero Arriva adesso Il fisco dell'arbitro Con il minimo indispensabile Grazie ad una Splendida Segnatura Da parte di Sebastiano Leto Secondo gollo Per lui Ancora una volta Decisivo Bella vittoria Ragazzi Ben fatto Vittoria che dà Ancora coraggio Dà ancora morale Vediamo adesso Come si evolveranno Le cose I risultati Ischia Isola Verde Fidelisandria 0-2 Benevento 2 Matera 4 Quindi lo scontro diretto Finisce per Premiare Il Matera Che adesso è seconda In classifica Ma il Benevento Ha i suoi punti Di vantaggio Foggia Martina Franca 2-2 Juve Stabia Messina 0-0 Amici Acragas Monopoli Finisce 1-1 Catania Battelupa Castelli Romani 1-0 Lecce Casertana 2-1 Catanzaro Melfi 2-0 Cosenza Paganese 1-0 La classifica La classifica Ci ripete un'altra volta Ragazzi In piena zona Playoff Benevento 51 Matera 42 Foggia 41 Catania 39 Amici 3 punti Dal secondo posto 38 punti Per il Messina I nostri cugini Sono stati appena scavalcati Lecce 37 Cosenza Catanzaro 36 35 Melfi 34 Ischia Ragazzi Guardate che classifica Nel giro di 5 punti Ci sono addirittura 1-2 3-4 5-6 7 squadre Fidelisandria Un po' più lontana 29 punti Qui inizia la zona calda Con Juve Stabia 27 punti Martina Franca E Paganese 24 Rimane a 23 La Casertana Lupa Castelli Romani 20 punti Monopoli E Agragas Un punticino in più Guadagnato Sulla Lupa Castelli Romani Ma rimangono ancora Ancorati all'ultimo posto La prossima sfida sarà contro il Melfi Melfi che al momento in classifica è proprio a metà Con 35 punti 4 di distanza da noi 9 vittorie 8 pareggi 7 sconfitte Non è un avversario ovviamente da prendere Da sottovalutare Sicuramente dovremmo dare il dovuto rispetto Noi fuori casa abbiamo qualche difficoltà Però ce l'andiamo a giocare Ed ecco perché Ci andiamo a gustare per appunto Il pre-partita Via Allora amici Il quadro della giornata di oggi Oggi il tema è In virtù di questo Melfi-Catania Per mantenere la zona playoff Fidelisandria-Lecce Messina-Akragas Quindi c'è il derby Ma il Messina ovviamente ha quasi il Diciamo più del doppio dei punti dell'Akragas Che ha appena Appena assunto L'allenatore nuovo Maggi A lui facciamo un in bocca al lupo Casertano-Juve-Stambia Paganese-Catanzaro Melfi-Catania Per l'appunto Monopoli Benevento Solito 4-4-2 Come a solito Formazione confermata Quella che ha affrontato La lupa-Castelli-Romani in casa Bene affatto Quindi la riproponiamo Squadra che vince Non si cambia Riproponiamo anche Bergamelli in difesa Al posto di Termago Che sinceramente Non mi è piaciuto Molto Anzi devo dire Proprio del tutto Non mi è piaciuto Proprio per niente Guardi Giocatore che mi sta Abbastanza sulle pampine Visto l'atteggiamento Che ha avuto sia In campo Che fuori dal campo Quindi premiamo Bergamelli E ci andiamo a giocare Questa partita Vediamo come si schiera Invece il Melfi Il Melfi si schiera Con il 4-4-2 Anch'esso Con Gaiardini in porta Nicolao Zanotti Esposito Annoni Innocenti Giacomarro Finazzi Herrera in centrocampo Lescano Tortolano Quei due lì davanti Non male Sfroniamoli Al solito Andiamo a dominare Questa partita Mi aspetto che vinciate Questa partita Vediamo se c'era Quella di riprendere Da dove abbiamo lasciato No Se esprimiamo Il nostro gioco Vinciamo Possiamo farcela Forse ragazzi Possiamo annunciare La nostra assiste vincente Va bene Va bene questa Come al solito Qualcuno ha sorte Nei suoi pensieri Ma va bene lo stesso Via Sedicesimo minuto Campo in orribili condizioni Come potete ben vedere A stento riconosciamo I giocatori del Melfi Che però passano in vantaggio In questo momento La rete di Tortolano Ottava rete della stagione Vantaggio dei padroni di casa Brutta questa Questo inizio Guardate qui E qui E Garufo Che aveva bloccato tutti Ma Tortolano arriva lì E inganna Bastianoni del tutto 1-0 dunque Per il Melfi Garufo 24esimo minuto Siamo in svantaggio Musacci Proviamo a recuperare Questa partita Ancora Khalil Da lui ci si aspettano Grandi cose oggi Come questo per esempio Tiro bellissimo Qui di Leto Proprio sul passaggio Di Khalil Ancora Di Marco E il gol Arriva il gol Il pareggio Stavolta lo fa Stefano Ferrari Prima rete della stagione Per lui E il nostro difensore centrale Il nostro capitano La insatta Su questo bellissimo cross Di Marco Dalla tre quarti Di destra E li anticipa tutti quanti Ed è 1-1 La rimettiamo nuovamente in piedi È il primo tempo Che si conclude Con il risultato di 1-1 Non stiamo giocando male Però c'è qualcosa Che dobbiamo sistemare Come per esempio Bergamelli Che stranamente La scorsa partita Aveva fatto una buona prestazione Oggi invece Sta peccando Un pochettino Ma noi mettiamo Pella gatti Anzi no mettiamo Purtroppo Per forza di cose D'ermaculo Dobbiamo rimettere in campo Non abbiamo alternativa Perché Per ragatti Più che altro È un difensore destro Più che un difensore centrale Ancora una volta Khalil Non sta facendo La prestazione Che ci aspettavamo Però La partita è alla nostra portata Possiamo ancora portare La vittoria a casa Le reazioni Come al solito Sono sempre le stesse Gente assente Questa cosa Io non Non la Non la Non mi cala Non mi scende Vediamo di incoraggiarli Niente Non fanno una piega Via Di Marco Stop bello ed elegante Serve Musacci Centralmente Ancora per Catano Calile Che se gira Potrebbe provare la botta Lo fa Ma la palla si Niente da fare 59esimo minuto Innocenti Per Lescano Ancora dietro Giacomarro Non ha spazio Allora indietreggia un po' Ma serve il compagno Finazzi Che è vicinissimo Ancora Giacomarro Riceve il pallone Lo dà Tortolano Lescano Attenzione Una serie di limpalli Potrebbero favorire Il giocatore di casa E qui la palla Menomale che va fuori Ancora Herrera Ancora il Melfi 66esimo minuto Sempre sull'asse Di destra Cross centrale Finazzi Preocupera ancora il pallone Lo dà ancora per Tortolano Quei due là davanti Fanno paura E non poca Innocenti Palla qui Per Lescano Che tira il gol Arriva il gol Del Melfi Il 2-1 Al 66esimo L'avevamo detto Nel periodo non collegato Che stavano giocando bene E quei due là davanti Sono veramente pericolosi Qui Innocenti Guardate che pallone Da Per Lescano Completamente A tagliare Arriva il gol Meritato vantaggio Per il Melfi In questo momento Poca roba per noi Ancora indietro per Giacomarro Per Finazzi Non riusciamo a togliergli la palla Lì che dobbiamo sradicarla La palla Dobbiamo fermarli Attenzione Quella grande parata Di Bastianoni Alziamo un attimino Nel baricentro Ancora per Leto Leto indietro per Musacci Musacci Appoggia a Kalille Kalille tira Da posizioni improponibili Così non Andiamo avanti Settendo di solo Il fischio dell'abito Ragazzi Purtroppo Concludiamo questa partita Probabilmente con una sconfitta E finisce proprio così 2-1 Tanto di buono Avevamo fatto Nella scorsa partita Che purtroppo Oggi La perdiamo Purtroppo Ne prendiamo alto Fuori casa Abbiamo delle difficoltà Avevamo acciuffato Il pareggio Purtroppo Questa partita Ci ha un attimino Segnati Vediamo adesso i risultati Fidelisandri a 0 Lecce 2 Messina Acragas 2-0 Caserta Juve Stabia Batte Casettana 2-0 Paganese 0 Catanzaro 2 Melfi Catania 2-1 Monopoli Benevento 1-1 La classifica adesso Ci vede ripiombare nuovamente A meno 2 Stavolta Anziché meno 1 Dalla zona Playoff C'è il Cosenza Che però ha una partita in meno Quindi potrebbe Anch'esso scavalcarci Si accorcia ancora un pochettino La situazione Siamo però lì Ragazzi A tre punti Ancora dal Secondo posto Tutto è fattibile La prossima partita Sarà in casa Contro la Paganese E noi ce la andiamo a giocare Quindi Noi ci perdiamo ad animo Ci sono degli aspetti positivi Ritorniamo nuovamente in casa Davanti al nostro pubblico Che ci può dare sicuramente Una mano Bene ragazzi Solita formazione nostra Termacuri prende la sua posizione In campo 4-4-2 Affrontiamo un'altra squadra Che lotta per Non retrocedere Quindi avrà bisogno Anch'essa di punti La classifica è molto corta Non voglio Ci sono stati altri risultati Non voglio per il momento Come dire Farvela vedere La vedremo alla fine Della partita Questo Falso 9 No Trequartista C'è il fulco del gioco Leto Oddio Perché no Va bene Potrebbe anche starci Questa posizione Per Leto Leto Cadano Calile Lì davanti Vediamo come si schiera Adesso La Paganese Paganese Che si schiera Con un 4-4-1-1 Informazione che a me piace Moltissimo Non la utilizzo Col Catane Perché non abbiamo Come dire I giocatori necessari Per poterlo fare Potremmo sperimentarla Magari Con una prossima squadra O eventualmente Con il Catane Se saremo riconfermati Nella prossima stagione Tutto dipenderà Da come finirà questa Comunque sia Marruocco Bocchetti Magri Rosani Esposito Caldore Palmiero Carcione Fortunato Colonna E Kunzi Lì davanti Questa partita Ragazzi Non si può Assolutamente Sbagliare Quindi dobbiamo Necessariamente vincerla Mi aspetto Una vittoria Regaliamo ai tifosi La prestazione Che si aspettano Per noi Sembrava assente Sebastiano Leto Mi verrebbe veramente Se fossi stato Negli spoglietoidi Dagli due scopole All'uno Ma va bene così È un gioco Andiamo avanti Via Terzo minuto È la Paganese Che agisce Però rubiamo palla Immediatamente Ripartiamo con Leto Attenzione qui Leto allarga Per Pier Marteri Che viene anticipato Da Fortunato Esposito Allora riparte La manovra Della Paganese Palla però Destinata a Di Marco Serve dietro Bastianoni Appoggia immediatamente Per Garufo Ritmo abbastanza veloce Da parte nostra Ma perdiamo Il possesso del pallone Lo recuperiamo Ancora una volta Scarsella Sull'asse di destra Ancora per Catano Calilla Catano Calilla Non segna da tre partite Attenzione qui a Leto Che prova Direttamente la botta Ma viene rimpallato Calcio d'angolo Siamo partiti Con la mentalità E l'approccio giusto Ci manca il gol Non sarebbe male Pier Marteri Metta al centro Questo pallone Che Leto Riesce a recuperare Sì Ma Se la fa soffiare Non l'ha di fatto Garufo Tredicesimo minuto Ancora per Scarsella Scarsella Centramedia Per Calilla Che si gira Dalla pallanetta Lì al centro Madonna mia Cosa si è mangiato Leto Cosa si è mangiato Leto Ragazzi Ancora centro Per Lulli Lulli Per Calilla Calilla Serve Leto Leto ancora per Calilla Calilla Tira la botta Ancora una volta Due volte Su Marruocco Fortunato Qui la Paganese Di Marco E ancora Calilla Che Prende il pallone Serve ancora Di Marco Crossa al centro Una palla però stavolta Va lontana Serve lateralmente Scarsella che ha spazio Scatta lungo la fascia Scarsella Alza la testa Crossa al centro La palla è lì Attenzione Calcio di rigore Calcio di rigore Per il Catania Fallo di Bocchetti Qui su Leto Falciato Leto probabilmente Si prenderà la responsabilità Del tiro Di questo calcio di rigore No invece Catano Calilla Attenzione Il tiro La palla Parata Calilla Dove sei con la testa Dove sei con la testa Calilla Dove sei con la testa Ritorna in te Occasionissima Sbagliata E fallita Dal dischetto Quarantaduesimo minuto Pier Marteri Al centro Qui ancora Ferrario Me la mette lì Mamma mia Miracolo Di Marruocco Quanto stiamo Sprecando ragazzi È qualcosa Di incredibile Ancora Leto È dentro l'aria Esce adesso Cerca di provare spazio Mette al centro Questo pallone Ancora lui La recupera La potrebbe rimettere Ancora al centro Ma qui Debolissima Arriva la conclusione Di Scarsella Un minuto Alla fine Di questo primo tempo Siamo ancora noi Proviamo ad attaccare Veramente Stiamo facendo Di tutto Manca solo il gol Musacci Kalil Leto La palla Ancora una volta Sprecata In posizione regolare Si conclude il primo tempo Ragazzi Partita Veramente Non posso dire Non posso che lo dare Veramente il coraggio Dei nostri Stiamo giocando bene Ci manca solamente il gol Peccato Veramente peccato Per quel Rigore sbagliato Da Katano Kalil Deve necessariamente Riprendersi Ma vediamo che Finalmente la reazione Sono felici Proviamo allora A ripartire E vediamo che Se riusciamo a Portare a casa I tre punti Taganesi Finora molto fortunata Devo essere sincero Quello è calcio di rigore Non ci voleva proprio Lulli Partiamo allora Attenzione per Katano Kalil Katano Kalil Serve indietro Scarsella Appoggia Per Garufo Garufo allarga Per Dermaco Dermaco deve darla subito Va bene Finisce con nulla di fatto Scorrono i minuti Siamo al settantesimo minuto Ci proviamo ancora Non è il gol Arriva il gol Ed è ancora Stefano Ferrario Che la sblocca 1-0 per noi Quando stavamo quasi Per perdere Le speranze Di Marco Mette al centro Questo pallone Qui c'è stato Un erroraggio Della difesa Era Rosania Che praticamente Si lascia sfidare Il pallone Arriva Ferrario Che come un rapace La mette dentro 1-0 per noi Ancora Garufo Scarsella Proviamo a ripartire Servito Kalil Musacci Proviamo a chiuderla Questa partita Ci meritiamo Il secondo gol Bella questa apertura Per Pier Marteri E' un gol E' un gol Arriva il 2-0 La chiudiamo Un colpo di mostro Di Kalil Mette le piedi Di Renanida Questo pallone Idiottissimo Riguardano ancora Guardate che lancia Ha fatto Renanida lì Spiazza tutti Mette il piattone Sinistro E la mette Alle spalle di Maruotto Non la può questa lotta 2-0 per noi Attenzione adesso Carcione 73esimo minuto Provano a riaprire la partita Niente da fare Questa è la prima conclusione Del Paganese Arriva al 75esimo Bocchetti Prova adesso a rifarsi Ancora Bocchetti Per Caldore Centralmente per Palmiero Attenzione Attenzione qui Allarga Bocchetti Caldore Potrebbe essere messo a terra Lo fa ma Scarsella Rilancia un pallone Sbagliatissimo Serve allora ancora Palmiero qui Anticipa tutti Ferrario Grande Grande l'intervento Possiamo ripartire Musacci indietro Per Scarsella Adesso devono Sono costretti I giocatori della Paganese Ad aprire gli spazi E questo potrebbe essere Tanto di Ghiotto per noi Lulli Per Calil Gli manca solo Il gol di Calil Se la riprende Riprende il tutto 18esimo gol di Calil Una bordata Finalmente L'ha in sacca Esplode il Massimino Ricordiamo questo Splendido gol Qui Lull Serve un'eccezione Quanto c'è Mettato questo Lull Quanto c'è Mettato Guardate che bordata Nulla può Nulla assolutamente Che è Margotto 77 sui 3 a 0 Balzer di emozione Allo stadio Angelo Massimino Ancora Caldore Indietro per Bocchetti Palmiero Provano a riaprirla E là Attenzione Accorcia Le distanze Caccavallo Con questo gol All'ottantesimo Minuto Riguardiamolo ancora Qui ci siamo un attimino Fatti Prendere Dall'entusiasmo Ci siamo distratti Qui due addirittura Sia Di Marco Che Musacci Niente hanno potuto Insomma Qualcosa di più Si poteva fare In quell'occasione L'abito aveva concesso Due minuti di recupero Ne mancano 20 di secondi Invece alla fine Ancora Caccavallo Sembra ormai Una partita destinata A finire con i tre punti Ancora per noi Adesso vedremo In virtù di questo risultato Se ci siamo ripresi Quello che momentaneamente Abbiamo perso L'abito fischia Finisce in gloria 3 a 1 per noi Gol di Ferrario Ancora poi Arrivato il gol Di Pier Marteri E la conclude La partita Con Khalil Con uno splendido gol Bella vittoria Sono felice Della prestazione Del risultato Tutti contenti Però ancora guardate Il morale è ok Non è buono Ma è ok Vediamo allora Gli altri risultati Con la classifica Lupa Castelli Romani Batte Melfi 1 a 0 Risultato questo buono per noi Perché il Melfi Si stava avvicinando Acragas Casertana 0 a 0 Foggia Monopoli Questo è molto interessante Per noi 2 a 1 Ischia Lecce Anche questo Interessante 2 a 2 Abbiamo preso 2 punti a Lecce 2 punti alla Foggia Juve Stabio Fidelisandria 0 a 0 E niente poco di meno Il Messina Perde 1 a 0 Contro la capolista Benevento Catania batte Paganese 3 a 1 Catanzaro 1 Martina Franca 2 Cosenza 1 Matera 0 Tutti risultati Molto buoni per noi La classifica Ragazzi è la seguente 55 punti per il Benevento Foggia E Matera 43 punti Catania 42 Mamma mia che classifica Ragazzi Messina Lecce 41 Cosenza 40 39 per il Catanzaro 38 punti Melfi Finali ci siamo tutte coinvolte a distanza di 4 punti Ischia 35 Juve Stabia 31 Fideri Sandia 30 Martina Franca 28 Luca Castelli Romani 26 Paganese 24 Assieme alla Casertana Monopoli 21 Che sgancia stavolta Lagragas che rimane Fananino di coda Con 20 punti Ragazzi Che dirvi Abbiamo fatto 3 partite Ci siamo goduti 2 vittorie Duna sconfitta Purtroppo fuori casa Dobbiamo migliorare La prossima puntata avremo da affrontare il Martina Franca Che è un'altra squadra che è in bilico Tra la zona retrocessione E Diciamo I sogni di gloria e di salvezza Quindi Sarà un'altra trasferta impegnativissima Dal Che cosa dirvi ragazzi Dunque Pollice nel su se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Da Lupus in Game è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao